Buongiorno ragazzi, allora siamo qui oggi con un video particolarissimo, nel senso che non è proprio un coaching e quindi no, è una cosa un po' diversa Ovvero, come molti di voi sanno, io circa dieci giorni fa ordinai su Amazon mouse e tastiera Dopo vi lascio tutti i link in descrizione così potete vedere un attimino che cosa ho preso io Qualcosa veramente di basic, non ho voluto né spendere troppo poco avendo una cosa che probabilmente, vista anche le recensioni, dopo un mese e due Cioè già i tasti che saltano per i fatti loro, ho detto mi prendo qualcosa di fascia medio-bassa però che comunque è un ottimo prodotto A meno come è durabile, non è una tastiera meccanica, assolutamente no, però comunque lascerò tutti i link in descrizione E niente, voglio fare questo video perché, allora molti di voi diranno, ma ma perché sei passato a mouse e tastiera? Beh, non sono passato a mouse e tastiera, semplicemente dopo, cavolo, allora io ho iniziato a giocare, la mia prima console avevo 5 anni, Nintendo 64 Da lì in poi ho sempre usato joystick, joypad A un certo punto mi sono detto, però diamine Adesso che sono ormai quanto due anni che siamo a stretto contatto con i PC player Ci sono troppe volte in cui io percepisco che vengo, diciamo, distrutto perché mi sono trovato uno con mouse e tastiera Che sia da play, che sia da PC, è uguale Mi ha fatto un tracking che, diciamo, un normale iPad player, ma anche con Sense 2020 come uso io Boh, non sarebbe, penso, mai riuscito a fare, non lo so, stava sparando a un mio alleato, io inizio a sparargli E questo qua ha fatto un flick velocissimo, boom E ha spostato in un decimo di secondo la mira su di me, non era un cheater assolutamente Perché ho visto che quando si è spostato su di me, sì, mi ha agganciato subito Però comunque la mira non è che fosse proprio incollata su di me Però è la velocità che mi ha stupito, col quale mi ha traccato, no? Quindi ho detto, ma siccome adesso con i coaching ho molti mouse and key player Che potrebbero magari chiedermi qualcosa, no? Io ho detto, ma perché anche per non allargare un po' gli orizzonti Non mi metto anche io a giocare con mouse e tastiera? Allora, io ora vi lascerò delle clip dove vi faccio vedere come ero il primo giorno con mouse e tastiera E poi vi lascerò delle clip sul come sono dopo poco più di una settimana con mouse e tastiera Non mi sono potuto allenare tutti i giorni perché, insomma, il tempo è quello che è Però comunque un giorno sì, un giorno no Quindi facciamo, sommiamo 6-7 giorni di allenamento, sommiamoli E quindi in totale di una settimana con mouse e tastiera Vi faccio vedere a che livello sono arrivato con il bello che ho utilizzato I metodi che utilizzo io per aiutare gli altri nei coaching Quindi testiamoli di nuovo, come avevo già fatto tanti anni fa quando ho già iniziato a giocare in club e quant'altro Testiamoli su di me Allora, prima di lasciarvi le clip vi dico una cosa E vi faccio vedere anche i setaggi Seense e tutto quanto Ma vi dico una cosa Dove sta la difficoltà maggiore per chi non ha mai usato mouse e tastiera e passa mouse e tastiera? Bene Allora, la cosa principale che vi dico non è tanto la mira Perché, Dio, la mira, bene o male, uno ce la fai Anzi, vi dirò, rinculo delle armi è molto più facile tenerlo con mouse e tastiera Però, il problema grosso è il movement Uno può dire, vabbè, di solito quando vedete i tutorial sul pad Più che il movement, ma anche io lo faccio nei coaching Io parto in ordine cronologico insegnando, insomma, spiegando come migliorare la mira, il tracking E come ultima cosa il movement Qua invece è l'opposto Siccome voi siete, io, siamo abituati a muoverci con un analogico Non siamo abituati a usare, tra virgolette, le frecce Avanti, indietro, destra, sinistra Che sono V, A, D e S Non siamo abituati Quindi, attenzione E la parte più difficile, infatti, non sarà la mano destra col mouse Ma sarà la mano sinistra con i pulsanti Cioè, voi dovrete, un po' come, avete presente i vostri genitori Quando, tipo, devono cercare di cambiare il canale al televisore Dopo 40 anni sono ancora lì che guardano i tasti sul telecomando Perché non sanno dove si trovano Ecco, a noi questa cosa non succede E non dovrebbe succedere neanche qua Il problema è che all'inizio Quando voi iniziate ad usare mouse e tastiera Vi si incartano le mani Cioè, non sapete, dovete guardare dove è l'R per ricaricare Vedete guardare dove è la C per abbassarvi Quindi, ci sono un po' di cose che devo dire Sono abbastanza complicate E ci vuole tempo per imparare, per fare tutto Però, allora, passiamo subito ai consigli che vi do Allora, punto primo Lasciate perdere gli allenamenti contro i bot Non fateli Andate in speedball E speedball è piena di bersagli Che siano mobili, fissi e quant'altro Allenatevi contro i bersagli Muovetevi e fate dei passaggi con la mira Da un bersagli all'altro Iniziate ad abituarvi con movement Qua lo slide cancel si fa premendo Con lo scatto tattico automatico Come l'ho impostato io Quindi tendo premuto la V E ho lo scatto tattico automatico Lo slide cancel si fa premendo tre volte C Io ho lo slide E per abbassarmi sulla C Quindi, tre volte C E hai lo slide cancel Quindi, questo attualmente è l'impostazione Che adesso poi vi farò anche vedere Quindi, il consiglio più grosso davvero è Iniziate con movement E poi passate alla mira Per trovare la sensibilità giusta Ovviamente non c'è mira assistita Quindi già allenarvi contro i bersagli Che sono pezzi di cartone O di legno Allenatevi contro di loro E già lì capite più o meno la sensibilità Da adottare e quant'altro Vi posso dire già che quello che io consiglio E non si vede qua Sono i DPI del mouse Io consiglio di tenerli da un minimo di 400 A un massimo di 1800 Non salite su una FPS Poi dopo giocate Siccome a differenza del pad Che avete una sensibilità Di modalità mirino Che però sono divise in due con gli sniper Però è una E la sensibilità XY Ecco, qua avete tre sensibilità Modalità mirino XY E i DPI del mouse Quindi, non lo so Sta un po' a voi ragazzi È abbastanza Come il discorso che facevo del pad È molto soggettivo Quindi andiamo dritti alle impostazioni Poi io di penso ogni due settimane Caricherò un video Proprio solo per far vedere I miei progressi Con mouse e tastiera Non abbandonerò mai il pad Però ragazzi È lampante quanto sia Hai un margine di miglioramento Che è incredibile Io so Personalmente Parlo su di me Di aver raggiunto il mio massimo livello Con pad E vedo che non riesco più a migliorare Nel senso che non ho più niente da migliorare sul pad Pur giocando in claw e tutto quanto Basta Ho bisogno di qualcosa in più Ma poi già il fatto che io Con pad Gioco fisso Con sensibilità 20 È proprio un'esigenza mia Di avere pieno controllo di ogni situazione E con mouse e tastiera Posso avere questo Il pieno controllo Di tutte le situazioni Però vabbè Ci vuole tempo ovviamente Allora Andiamo Allora Come sensibilità Qua in tastiera e mouse Io ho sensibilità mouse menu Io ho sensibilità mouse menu 273 Perché sono Diciamo Molto più rapido Nel selezionare Ad esempio Il carrello Le cose E quant'altro Poi sensibilità mouse Ce l'ho sull'8 Con Come ho già detto 400 dpi Sul mouse Poi sensibilità mouse Invece Modalità mirino 064 Qui Con gli R Mitragliete Tutto Mette col cecchino 099 Poi qua non ho toccato Nient'altro Movimento Tutto premi Alterna Alterna Scatto tattico automatico E i movimenti Iniziamo Allora La V La V Muoviti in avanti Poi S indietro A sinistra D a destra F usa Quindi raccolgo gli oggetti E quant'altro Apro Non so Entro nei mezzi Apro il carrello Prendo il load out F Poi spazio O salta Quindi con lo spazio Io salto Poi accovacciati Scivola O la C Quindi mi alzo E mi abbasso Mentre su CTRL O Sdraiati Ma che cos'è? Praticamente Molti di voi non sono se lo sanno Ma su Mato e tastiera Non dovete tenere premuta la C Per sdraiarvi Come avviene sul pad No Qua voi potete Premere un pulsante E questo pulsante qua Che è il control Vi permette di Abbassarvi immediatamente Cioè proprio Ha un pulsante solo per il dropshot E lo fai col mignolo Poi Scatto tattico Però a me non serve Perché l'ho già messo Scatto tattico automatico Poi Qua non abbiamo toccato Penso nulla Nulla Io non ho toccato niente Ho Che sparo Con il pulsante sinistro Del mouse Destra Modalità mirino Ricarico con la R Poi qua Io se non erro Non ho toccato altro Con la Q Ho il tattico E col pulsante laterale Del mouse Quello più vicino a me Ho la granata E con quello più lontano Mi appoggio ai muri Poi raga Per il resto È veramente Tipo Con l'uno Io Chiamo lo avvio Le streak che ho Con il 4 Mi do le corazze E poi Con lo shift Trattengo il respiro Col cecchino Altro raga Cioè Non so cosa dirvi Cioè le cose importanti Sono queste Ah vabbè Con il Caps lock Ho il Mostra La mappa Con la E Indico io Molti hanno Usa sulla E Invece che sulla F E con la tab Che è quello Accanto alla Q Del tattico Apro l'inventario E col pulsante Sinistro del mouse Droppo Tipo 100 alla volta 200 alla volta Mentre con Il Con il Con il tasto destro Lascio tutto Quello che ho Basta Queste sono Le cose principali E adesso vi lascio Delle clip Per farvi vedere Un attimino Fury Come è passato Dal day 1 Al day 7 Alla prossima Belli Ciao 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 Ciao! And I come back Niggas tryna flex Tell me that I'm lost And I'll take it in the back though Don't even wanna check Niggas don't wanna call it a day Our coach, we ain't got shit to say Talking to me like you wanted to stay When they come back around And we still trying to play Go on, break it down for a nigga Go on, break it down Just a little had love for a nigga But they say he playing games with a nigga Steady throwing names for a nigga One time for you niggas And I'm going with my stash Trying to make it last Fox overflow like they did in the past Ain't with me, they still trying to ask Fuck you all know about me Fuck a nigga bitch up before the OZ Shit I keep it low key Many people saying that they know it Like there's plenty of this shit I ain't see Catch me overseas in a fucking white key Bitches say LaBelle, man I really want the D Niggas say LaBelle, man I really wanna see Y'all know about me Stress keeps building Blood stops flowing Brain got me open Gun off a potion Stress keeps building Gun off a potion 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 Grazie a tutti No more, no more, no more